Nell'ultima settimana nella provincia di Brindisi la curva accenna a un nuovo incremento dei casi. Lo certifica il report settimanale dell'ASL che evidenzia un altro aspetto preoccupante. L'età media dei positivi è scesa dai 45 anni della scorsa settimana ai 42 anni di questa. Sul dato medio evidentemente incide in maniera significativa l'alto numero di studenti risultati positivi nelle ultime settimane. Alla data del 31 gennaio in provincia di Brindisi risultano 898 positivi di cui 470 donne e 428 uomini. Si modifica ancora la geografia del contagio. Ecco i casi positivi comune per comune secondo il report dell'ASL. Brindisi 287, Ceglie 108, Torre Santa Susanna 88, Mesagni 65, San Pietrovernotico e San Vito 47, Fasano 45, Ostuni 35, Francavile e Cisternino 28, Oria 25, Carovigno 20, Cellino 14, Villa Castelli e Sandonaci 13, Erchie 10, Latiano e Torchiarolo 8, San Michele e Salentino 5, San Pancrazio 4. E anche il report dell'ASL, se mai ce ne fosse bisogno, colloca Torre Santa Susanna in cima alla classifica dei comuni a più alta incidenza di positivi rispetto al numero degli abitanti. Situazione finalmente sotto controllo a San Michele e Salentino mentre resta sotto osservazione quella dell'area ovest della provincia con Ceglie Messapica in progressiva crescita e Villa Castelli, Francavilla e Oria stabili. A sud ovest continua a preoccupare soprattutto San Pietrovernotico. Torre Santa Susanna 353 casi ogni 10.000 abitanti. Brindisi 326, Villa Castelli 273, Francavilla 262, Oria 262, San Pietro 240, San Michele 222, Ceglie 216, Latiano 206, Mesagne 204, Ostuni 187, Erchie 172, San Vito 165, San Pancrazio 156, Carovigno 146, Sandonaci 139, Fasano 135, Cellino 114, Cisternino 108, Torchiarolo 103. Nonostante Emiliano abbia annunciato la possibilità che la Puglia torni zona gialla, i dati non sono ancora incoraggianti. Per la prima volta dopo quasi un mese i pazienti covid ricoverati negli ospedali della Puglia salgono sopra quota 1.600, per la precisione sono 1.602, di cui 170 si trovano nelle terapie intensive. Numeri, secondo anche il rapporto dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, oltre la soglia di rischio per la tenuta del sistema ospedaliero. L'indice di positività oggi è salito al 10,1% rispetto al 9,1% di ieri. 8.701, i test effettuati, di cui 879 sono risultati positivi, ossia il 10,1%. I decessi nella regione sono stati 26. La suddivisione dei casi per provincia, Brindisi 59, Lecce 80, Taranto 163, Bari 354, Foggia 321, BAT 92. Secondo il recente rapporto INAIL appena presentato, i contagi da coronavirus sul luogo di lavoro a livello nazionale hanno ormai superato la soglia dei 131.000 casi. In questo scenario la Puglia, con 4.426 casi, rappresenta il 3,4% degli infortuni sul totale nazionale. Di questi, 2.446 sono donne, mentre 1.980 sono uomini. Nella provincia di Brindisi si registrano 496 casi, di cui 283 donne e 213 uomini, con un'incidenza dell'11,2% sul dato della regione. Non si registrano decessi quest'oggi in provincia di Brindisi. La situazione dei ricoveri, 44 all'ospedale Perrino, 18 in malattie infettive, 16 in pneumologia e 10 in rianimazione, 23 a Ostuni, 12 dei quali in medicina interna e 11 in pneumologia, 10 i post-covid, 3 a Mesagne, 4 a Ceglie Messapica, 3 a Cisternino. Sul fronte dei vaccini in Puglia sono 111.446 le dosi Pfizer somministrate, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Il 92,7% delle dosi a disposizione della Puglia, complessivamente 120.235, sono state già inoculate. Restano quindi meno di 9.000 dosi di riserva. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.